Allora, siamo Marino e Micaela, titolari della macelleria Svizio di Carne. Collaboriamo con Upface da circa un anetto circa. Sinceramente è stata una bellissima esperienza, condivisibile con tutti i nostri clienti. È stata una bella miglioria, così si può chiamare. Tutte le iniziative sono state fatte dalla ditta e per noi è stato un piacere essere serviti in poche parole. Sì, non abbiamo incontrato nessuna difficoltà. Il punto di porta di Upface è sicuramente quello di proporre al cliente un servizio costante, cosa che quando si lavora non è possibile, perché noi abbiamo altro a cui pensare. Naturalmente noi siamo macellari, quindi non è che abbiamo molto tempo da dedicare a questo, però vedo che i clienti hanno molto apprezzato il fatto che siamo costantemente presenti sulla pagina, che ci sono le nostre proposte, le nostre iniziative e ci ha dato notevole visibilità. Abbiamo visto dei risultati positivi, abbiamo avuto anche dei clienti nuovi, legati comunque al fatto che abbiamo avuto più visibilità su Facebook e anche i nostri clienti vedo che sono molto contenti del fatto che comunque sono state fatte delle iniziative e vengono fatte delle proposte, cioè si sentono più partecipi. Si può consigliare perché è una bellissima iniziativa, perché tutte le altre iniziative che abbiamo intraprese prima non danno il stesso risultato. Per noi è stato semplicissimo e facile, però al di là di tutto è stato un bel risultato.